È stato nominato qualche giorno fa il nuovo sovrintendente scolastico, il professor Rizza e ieri mattina ho voluto incontrarlo senza perdere tempo, ricordando che il suo incarico inizierà con il primo di settembre insieme alla dirigente del Dipartimento Istruzione e Cultura, la dottoressa Mussino. Era importante questo primo confronto intanto per far conoscere in modo più approfondito al sovrintendente quelle che sono le strategie di legislatura di questa giunta, partendo dai temi centrali delle strategie, cioè il benessere degli studenti, il benessere anche degli insegnanti e l'importantissimo tema da affrontare a 360 gradi della cittadinanza digitale. Abbiamo parlato poi di tante altre cose, ovviamente le priorità sono moltissime, dal sistema di valutazione sia dei dirigenti ma anche allargato ai ragazzi, questo sarà un lavoro importante che comporterà un impegno lungo tutto l'anno scolastico e insomma tutti quei temi che saranno da affrontare per far sì che la nostra scuola che è già di qualità eccella sempre di più. Tra questi anche la formazione professionale, tra le priorità di legislatura, la riforma della formazione professionale per la quale verrà avviato il quarto dei quattro tavoli di confronto istituiti in Dipartimento con delibera di giunta, per cui diciamo siamo al lavoro. Per quanto riguarda i rapporti tra assessorato, Dipartimento e sovrintendente, insomma so che è un tema di interesse per molti capire quali sono le logiche di confronto e di equilibri, ho voluto ribadire al sovrintendente la sua piena autonomia e libertà d'azione, nessuno di noi però ovviamente è avulso dal sistema, quindi questo in una logica di confronto e di sinergie, perché le libertà solo allora diventano davvero un valore aggiunto per il sistema scolastico. Oggi abbiamo anche approvato, a conclusione di questo lungo iter, anche la delibera di rotazione dei dirigenti scolastici, aspettavamo appunto la nomina del nuovo sovrintendente per poter fare anche questo atto e in questa delibera abbiamo voluto confermare un importantissimo principio che è quello della continuità all'interno delle nostre scuole, pur cercando di andare incontro il più possibile alle richieste avanzate da alcuni dirigenti.